Contro il caro Bollette e gli aumenti dei costi dell'energia, il comune di Caltanissetta adotta un vademecum di buone pratiche scritto dall'Energy Manager di Palazzo del Carmine, l'ingegnere Guido Donato Moser, regole quindi che i dipendenti dell'ente dovranno rispettare per contribuire al risparmio energetico. Ed in un periodo come quello attuale, in cui in tutta Italia, secondo una ricerca del sole 24 ore, le bollette già pagate da gennaio a settembre dal complesso degli enti territoriali in tutta Italia assegnano aumenti del 44,3% alla voce energia elettrica con il rischio per i comuni di un raddoppio secco dato il colpo dell'inflazione che non è lontana da quello della pandemia. Così adottare buone pratiche comportamentali per evitare inutili sprechi di risorse di tutti i tipi a cominciare dal cattivo uso di apparecchiature elettriche è una risposta utile e concreta. Ci troviamo in una fase storica in cui i continui aumenti dei costi energetici ci impongono di attivare una serie di azioni che devono avere lo scopo di dare maggiore attenzione ai consumi e agli sprechi. Appunto per questo l'energy manager del comune di Caltanissetta, l'ingegnere Guido Moser, ha redatto un vademecum per il risparmio energetico destinato ai dipendenti di questa amministrazione perché oggi gli sprechi si pagano a caro prezzo e dovranno essere combattuti in tutti i modi. Il vademecum individua quali siano i corretti utilizzi degli impianti di climatizzazione, ascensori, illuminazione interna nei luoghi di lavoro, utilizzo di computer, stampanti e fotocopiatrici, tutto per utilizzare bene l'energia e il risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici che possono essere seguiti anche da tutti i cittadini.